L'appuntamento per gli appassionati dell'automobilismo è da venerdì 9 a domenica 11 luglio sulle montagne olimpiche quando tornerà la Cesana Sestriere, corsa in salita, che in 60 anni ha scritto pagine memorabili della storia dell'automobilismo sportivo. La Cesana Sestriere che cosa significa per la vostra località nell'ambito di una stagione estiva? Significa molto perché Sestriere da sempre segue i motori come strategia turistica, quindi per noi è l'evento importante a livello motoristico insieme ad altri eventi che sono le moto, i raduni e soprattutto il mondiale di supermoto il 5 settembre. La città metropolitana di Torino sta concludendo lavori sulla strada provinciale 23 del Sestriere nel tratto che va da Cesana al Colle, che consentiranno la disputa della gara nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla Federazione Internazionale Automobilistica presieduta da Jean Todd. Con una spesa complessiva di 500.000 euro, tre diversi appalti tra loro complementari stanno rendendo più agevole e sicuro il transito delle vetture da corsa, ma soprattutto andranno a vantaggio dell'utenza locale e turistica di una delle dorsali viaria maggiormente trafficate in Alta Valle di Susa. Sono in corso riasfaltature, rappezzi, scarifiche, risagomature del piano viabile, piccole manutenzioni, la posa di circa 300 metri di nuovi cordoli porta barriera, la successiva posa di barriere H2 bordo ponte e di 1300 metri di barriera H1 bordo laterale. Sono in corso anche piccoli interventi di manutenzione delle banchine. Grazie a questi lavori Sestriere e Cesana guardano con ottimismo al grande evento automobilistico, ma anche a quelli ciclistici come la Gran Fondo di domenica 18 luglio e in generale alla stagione turistica estiva. Questi lavori, io ci tengo per questi lavori a ringraziare veramente Città Metropolitana perché sono fondamentali per la sicurezza, per l'aspetto turistico al di là dell'evento sportivo e voglio anche ringraziare perché anche sul fronte che scende in Val Chisone verso Pragelato i lavori sono stati fatti, stanno veramente ultimando diversi cantieri e anche lì la viabilità è perfetta e credo sia un buon biglietto da visita a livello turistico.